faremo un panel un po' diciamo diverso dai soliti normalmente in questi eventi si parla come disintermediare dalle OTA in realtà oggi vogliamo fare una cosa proprio provocatoria nel senso che parleremo come si può intermediare meglio possibile con le OTA diciamo che eh parte dall'assunto che ehm che piacciono o no le OTA sono fondamentali per la nostra visibilità delle strutture ricettive grandi piccole qualunque sia e che ci piacciono o no dobbiamo saper utilizzare eh possiamo dire che oggi parleremo sia di una parte parleremo di esporremo dei dati sulla destinazione Firenze, Toscana e non solo eh quindi molti dati molto interessanti e poi faremo vedere delle chicche delle particolarità che ci sono nelle varie extra di questi canali che vi permetteranno di avere maggiore visibilità e quindi maggiori vendite non mi dilungo più di tanto ma solo ve le presento io sono Sergio Cirillo la mia azienda si chiama Revenue Gorn una società di consulenza eh revenue oltre che distribuzione online comincio da Alessia che è Saleri che è di Booking.com Erika Danese di Airbnb e Tatiana Muzichenko che l'ho detto pure bene di eh Hotel Bets eh eh vi dico solo quello che vi ho detto già mh la mia azienda ha un canale ufficiale su Telegram che si chiama appunto Revenue Gorn che è dove mettiamo tutte queste notizie dove molte delle alcune delle persone che sono pure qua dentro sono mi hanno conosciuto tramite questo canale è gratuito potete entrare e mettiamo le novità sul mercato che ci sono attraverso le o eh faccio subito parlare non mi porto il mio tempo andiamo subito alle cose più interessanti e faccio vi faccio parlare Erika ci parliamo di Airbnb Airbnb eh sì Airbnb Booking e Hotel Bets sono tre canali completamente diversi da loro fra loro anche se vengono chiamate OTA in maniera a volte anche impropria eh per molti albergatori è difficile comprendere Airbnb perché Airbnb siamo abituati che è una struttura alberghiera fai metti la tua struttura alberghiera e poi le varie tipologie di camere per la vendita in realtà Airbnb è sovverte questo questo ordine in cui le tipologie di camere sono gli annunci e la struttura è un appendice di questa cosa detto questo lascio tutto a Erika che vi parlerà soprattutto inizieremo con dei dati eccomi ecco bene funziona ciao a tutti e tutte sono Erika mi presento lavoro nel team che si occupa dell'offerta su Airbnb eh dal duemiladiciotto sono lavoro per Airbnb eh collaboro con oss professionisti proprio su come ottenere il meglio dai propri annunci sulla piattaforma eh grazie per l'invito e per l'introduzione siamo partiti con subito con una patata bollente degli hotel eh oggi vedremo un po' e parleremo un po' di Airbnb in generale prima magari di iniziare una domanda un po' rompighiaccio quanti di voi utilizzano Airbnb per alzata di mano bene e quanti di voi conoscono la storia di Airbnb benissimo allora non ve la risparmio ma ve la racconto brevemente perché noi facevamo le domande se la sapevano tutti facevamo le domande sulla storia di Airbnb sì un indovinello beh velocemente Airbnb nasce da due studenti squattrinati dove si vedono aumentare l'affitto dell'appartamento e allora pensano di aprire il proprio appartamento ai viaggiatori gonfiano dei materassi ad aria e iniziano ad ospitare nel duemila otto come vedete eh lanciano la prima il primo sito air bed and breakfast air bed proprio per il materasso ad aria e capiscono che quella idea non era poi così tanto folle perché ricevono le prime prenotazioni un'ottantina di prenotazioni da lì poi si è passati a a creare proprio la piattaforma con quegli che sono adesso gli strumenti fondamentali il sistema delle recensioni il sistema di pagamento nel duemila e dieci viene lanciata l'app con la prenotazione immediata questo immaginate facilita molto a chi deve prenotare in pochi passaggi a a riservarsi l'appartamento e qualche anno dopo un altro strumento a tutela di chi vuole mettere il proprio annuncio su Airbnb questa garanzia host quindi una protezione eh a copertura dei danni su Airbnb Airbnb cresce nel frattempo arriva in altri paesi si ampia l'offerta appartamenti da stanze private appartamenti bed and breakfast eh fino diciamo ad ampliare anche al mondo delle esperienze nel duemila sedici arriviamo recentemente l'anno scorso con degli appuntamenti fissi ogni due anni prima della stagione estiva e di quella invernale lanciamo le novità nuovi servizi e e diciamo strumenti sul sul prodotto che servono appunto sia gli host che al gas questo per facilitare e attrarre sempre più sia domanda che le facilitare e supportare l'esperienza di chi affitta dove siamo oggi questo ci ha portato ad avere sei milioni di annunci in tutto il mondo con più di centottanta miliardi di dollari di ricavi degli host questi dati per dire in realtà che eh Airbnb è cresciuta molto insieme agli host e ma la missione è rimasta sempre la stessa cioè quella di eh far sentire chiunque a casa ovunque partiamo e poi lascio la parola a alle mie colleghe eh con le ultime novità qui parliamo de novità freschissime perché scorsa settimana le abbiamo lanciate eh due tipologie uno serve più a chi inizia visto che qui più o meno c'è chi non non sta ancora utilizzando Airbnb per chi inizia a facilitare come come poter mettere gli annunci c'è un supporto individuale da un super host quindi avere anche suggerimenti direttamente da chi lo fa con esperienza eh selezionare un ospite esperto per la prima prenotazione e poi un'assistenza dedicata proprio a chi parte diciamo per adesso mi fermerei qui poi vediamo le le novità. Poi andremo nel dettaglio delle varie cose. Se mi dai il microfono Tatiana. Ok. Ora. Grazie. Allora ora parliamo di Hotel Bed. Hotel Bed è un mondo molto complesso eh parleremo anche delle disparità tariffari ve lo dico prima così andiamo andiamo ci portiamo avanti con la problematica e ehm però dovete conoscere Hotel Bed perché molte volte sento ma faccio il contratto con le FIT le faccio con Tanturo per etero con le agenzie in realtà c'è una maniera per essere subito collegati con questo mondo ora ci spiegherà qualcosa Tatiana. Vai. Grazie Sergio. Eh intanto mi presento io sono Tatiana Musicenco sono l'area contracting manager per il nord Italia in Hotel Bed dal 2017. Eh Hotel Bed ehm un po' di escursi nella storia breve molto brevemente eh da essere una DMC spagnola nel duemila uno è cresciuto fino a diventare il leader come Bed Bank globale attualmente presente in oltre centoquaranta mercati e con un fatturato di oltre sei miliardi di euro con tremila dipendenti in tutto il mondo eh e mh inglobando diversi eh brand. Eh cosa vuol dire diversi brand? Vuol dire creare un'offerta eh completa per per i nostri clienti. Eh Hotel Bed, il brand di Hotel Bed è il distributore di pernottamenti dedicato al tour operator, compagnie aeree eccetera mentre Bed Online è sempre un brand di distribuzione di pernottamenti ma dedicato alle agenzie di viaggio. Eh Beyond the Bed invece si occupa di trasferimenti, servizi, visite guidate e eh Roybeck è una società di tecnologia eh che si occupa della specializzata nel canale diretto di vendita della dell'hotel. Eh la missione di Hotel Bed è essere al centro come eh soluzione tecnologica per connettere quello che l'offerta è mh l'offerta molto diversificata con un prodotto molto ampio e mh diversificato appunto dal punto di vista sia di mh alberghi di mh di transfer di servizi collegarla alla domanda che sono che varia dai tour operator e operatori grandi di B2B alle piccole agenzie in tutto in tutto il mondo. Ehm chi sono i nostri clienti principali? Mh come ho detto è molto diversificato. Ehm uno dei nostri principali ad esempio come compagnieri è EasyJet con cui collaboriamo ormai dal dal duemila quattro eh British Airways piuttosto che con agenzie come il corte inglese oppure tour operator come G2. Brava infatti una delle domande che volevo fare proprio questo. Non so quanti dei presenti sanno che se io per esempio voglio essere su Dertour vorrei essere venduta Dertour piuttosto che dal corte inglese eh devi fare normalmente un deve andare dal contrattista a stipulare il contratto invece con Hotel Bed questo invece si può fare un'unica soluzione. Esatto la la soluzione di Hotel Bed è proprio questo la missione è questo è semplificare tutta questa connessione. Hotel ovviamente ha a disposizione eh anche i contatti diretti può contattare direttamente ogni singola agenzia e fare tutti i contratti ma questa gestione sia dal punto di vista del lavoro per l'albergo diventa complicata e comunque non può superare un certo numero di contratti che un albergo può gestire individualmente con ogni operatore la stessa cosa eh anche per i tour operator che soprattutto eh con il covid e con la necessità di rivedere i costi hanno dovuto ridurre il personale piuttosto investire nella tecnologia e semplificare la gestione. A questo punto superentra Hotel Bed che da la soluzione sia a un lato che all'altro. Come anche il fatto delle compagnie aeree molto si parla del volo eh volo hotel volo più hotel in realtà tramite voci può fare direttamente con la compagnia aerea con cui avete la collaborazione. Esatto eh molte compagnie non fanno neanche direttamente i contratti eh con gli alberghi non avendo proprio un eh un reparto dedicato alla contrattazione alberghiera piuttosto si affidano o direttamente a Hotel Bezzo oppure affidano questa contrattazione a terze parti per creare il sito appunto di di quello che è pacchetti come EasyJet Holidays che ha il sito che è EasyJet oppure EasyJet che ha il sito di pacchetto completo dove il prodotto che vedete come alberghi è fornito appunto da da Hotel Bezzo. Ok. Andiamo avanti. Eh per quanto riguarda posso eh volevo fare un attimo lo so che sicuramente se ne è parlato molto in questi giorni e ultimamente se ne sta parlando molto arrivando anche un po' eh alla fine dell'anno e per quanto riguarda un po' il trading noi guardiamo qui eh abbiamo scelto in questo caso di presentare i dati in creazioni e delle prenotazioni e abbiamo visto che da azione significa per booking window per data di prenotazione cioè le prenotazioni che stanno entrando. Esatto le prenotazioni che stanno entrando nel corso eh giorno erano anche fratto. Sì esatto per tutti gli arrivi perché guardiamo questo dato con Hotel Bezzo perché eh come vedremo anche più avanti eh nostro mh mh lead time quindi di prenotazioni è molto ampio le prenotazioni principalmente sono almeno di eh due mesi in anticipo per cui guardare solo gli arrivi di quest'anno era un po' limitante anche se ovviamente anche in termini di arrivi quest'anno eh il duemilaventidue dopo due anni di covid è stato molto inaspettato per certi versi. Europa eh in generale siamo passati da un gennaio con cinquanta per cento di volumi di prenotazioni a un più sei nelle creazioni nelle ultime quattro settimane rispetto allo stesso periodo nella nel duemiladiciannove ovviamente prendiamo in paragone il duemiladiciannove Italia ha fatto un boom ancora più mh eh più grande nelle ultime quattro settimane comunque sta performando a più ventuno rispetto al duemiladiciannove eh mentre Toscana eh ha ha avuto un una ripresa con noi molto più lenta anche se comunque nelle ultime settimane sta ritornando ai livelli sostanzialmente del del pre covid questo perché come mh vediamo qui eh influenzato molto dalla dalla stessa città di Firenze come città d'arte e perché questo perché mh Firenze ha una dipendenza molto alta eh di dei mercati long mercati lontani come mercato americano che anche se ha ripreso già viaggiare ovviamente eh ma comunque ha avuto necessità di più tempo no per per ricominciare a prenotare per cui Firenze ha subito ovviamente un recupero molto più lento rispetto alle altre regioni o altre destinazioni ma comunque nelle ultime quattro settimane stiamo già tornando ai livelli pre covid stando a circa novantacinque per cento dei volumi eh scusate sto rubando no no e per quanto riguarda eh la tipologia appunto delle prenotazioni di ehm di hotel beds eh noi vediamo che Firenze eh anche quest'anno nonostante eh ovviamente il mercato è cambiato è tutto molto è stato molto last minute nonostante questo eh per noi il cinquanta per cento delle prenotazioni sono state con l'anticipo di eh due mesi o anche di più e il trenta per cento di soggiorni di quattro notti e più che eh è un valore secondo me molto importante per per gli alberi. Bisogna capire che quando si fa un contratto con voi ti riferisci soprattutto a un certo tipo di mercato che magari in queste zone sta anticipo prenota con due mesi d'anticipo e sta di media quattro notti. Esatto. Esatto. E per quanto riguarda appunto i mercati eh il cinquanta per cento eh a Firenze è eh prodotto dai mercati long gol quindi mercati lontani come America, Asia ancora siamo in attesa che riprenda ovviamente i volumi anche se mh Cina adesso sta riaprendo diciamo che aspettiamo che tolgano le ultime restrizioni delle due settimane di quarantena di rientro però mh dovrebbero farlo speriamo tutti eh a breve ehm e infatti anche rispetto al generale dato di Italia dove eh Longo rappresenta un trentotto per cento a Firenze invece è un cinquanta che è un dato molto importante e dal punto di vista di nazionalità anche qui mh è importante vedere che eh la nazionalità di viaggiatori nel nostro caso è molto diversificata non è solo una tipologia no di di nazionalità eh anche se come abbiamo detto prima prevale ehm US che è un ventitré per cento per per Firenze e per quanto riguarda Italia il primo mercato per noi è UK mentre a Firenze è US e UK passa al secondo posto tutti e due mercati sono in crescita poi seguiti dalla Spagna eh quest'anno una un dato interessante invece Brasile e Messico che che stanno crescendo fortemente un po' eh sostituendo eh quello che è mancato un po' dagli Stati Uniti invece in America che stanno crescendo sono sono in negativo ancora ma stanno riprendendo per per il futuro a a numeri molto elevati insomma. Ok perfetto grazie mille. Qui eh possiamo vedere come ehm un riepiloglio di cosa è la Telbex che poi vedremo anche attraverso le tariffe che eh la Telbex ha varie funzionalità a volte difficile da comprendere ecco perché poi andremo nel dettaglio e per utilizzare tutte le possibilità che dalle extent e che da commercialmente a Telbex. Andiamo ad Alessia. Grazie. Eccoci qui. Eh buonasera a tutti. Eh io sono Alessia Saleri, sono area manager per booking.com, seguono nello specifico eh il nord est eh dell'Italia, la Sicilia e Malta. Quindi un'area molto variegata e sono in un'azienda da ormai quasi quattordici anni. Quindi un dinosauro si direbbe. Ehm allora intanto grazie Sergio eh io quando ehm mi hai proposto di di partecipare a questo panel ho cominciato a pensare dato che insomma booking.com eh bene o male è abbastanza conosciuta nel nel nostro settore eh quali potevano essere anche i dati più più interessanti da da condividere. E in questo senso eh una settimana fa dieci giorni fa più o meno eh la Oxford Economics ha pubblicato un report a cui anche booking.com ha partecipato eh nella condivisione di di dati e mh all'interno del quale eh la Oxford Economics ha cercato di eh valutare qual è l'impatto o qual è stato insomma eh l'impatto eh delle OTA parliamo di OTA in generale non eh nello specifico di di solo di booking.com ehm l'impatto economico delle delle OTA sui mercati eh sui clienti e sulle destinazioni ovviamente non da ultimo sulle strutture ricettive. E da questo grafico eh si vede eh sostanzialmente la parte bianca è quella eh relativa alle prenotazioni quindi alle notti prenotate in eh tutte le tipologie di accommodation in Italia questi sono i dati dell'Italia nello specifico dal duemiladodici al duemilaventuno e in blu eh vediamo invece i dati delle prenotazioni che arrivano tramite le OTA. Ehm la cosa che eh credo sia importante da da sottolineare in prima battuta è proprio il fatto che ehm la parte eh di prenotazioni che arrivano dalle OTA sostanzialmente sono un numero incrementale rispetto a quello che è il la prenotazione che eh avviene tramite insomma tutti gli altri tutti gli altri canali. Ehm questo report eh è disponibile in tre diverse tre macro aree quindi abbiamo il report per il Nord America, uno per l'Europa e uno per Asia Pacific e ehm all'interno di ogni report ci sono poi eh tutti i dettagli relativi al alle varie ai vari paesi quindi se se vi potesse interessare eh dovrebbe essere disponibile anche sul nostro sito di eh PA. Alessia quindi questo detto questo dato cosa ha da significare? Che praticamente le OTA hanno incrementato il volume d'affari non intaccando eh la parte diciamo dell'ambiente dell'albero che è diretta o attraverso altri canali quindi ha aggiunto un valore fondamentale. Sì esattamente diciamo mh questo è quello un po' che il report eh sostiene quindi che sia un valore incrementale ma ehm il valore incrementale da cosa poi deriva sicuramente dal fatto che le OTA forniscono una piattaforma eh alle strutture che ovviamente danno da visibilità alle strutture e permette anche di ampliare quella che è la base dei clienti. Dall'altro lato eh crea anche fiducia nel cliente finale eh che eh magari preferisce affidarsi a un OTA soprattutto per destinazioni molto lontane e quindi avere anche una un'intermediazione in in questo senso. Il secondo punto secondo me molto rilevante è il fatto che ehm non solo le città d'arte o comunque le mete turistiche mh cosiddette eh hanno avuto un impatto positivo eh grazie alle OTA ma anche tutta quella che è la parte diciamo rurale di turismo rurale che tra l'altro è anche uno dei trend che con la pandemia è è esploso ehm sicuramente l'impatto eh sulla anche sulle aree eh geografiche che insomma appunto non non sono di città eh ha eh ha avuto un un effetto benefico. Ehm il terzo punto eh che eh mi riporta anche a quello che diceva Tatiana prima eh quindi la parte relativa alla provenienza dei clienti e da qui vediamo eh nel grafico a sinistra ehm quella che è la composizione dell'International Travel. Questi sono dati relativi al 2019 eh vediamo che sicuramente eh rispetto alle macro aree di provenienza sia OTA che eh il mercato nel suo complesso hanno più o meno delle percentuali simili. Se però ci spostiamo su quella che è appunto la composizione del del dell'International di lungo raggio eh a questo ovviamente abbiamo cioè vediamo sostanzialmente che nella parte di OTA eh sicuramente il Nord America ha un un gran peso eh ma anche appunto Sud America e Nord East eh assumono una rilevanza non da poco e sicuramente eh tutti quelli che sono anche mercati magari meno supportati eh generalmente da dall'intero segmento eh hanno invece appunto un un peso maggiore quindi Oceania, Oceania, Middle East e tutto quello che è anche il il mercato ehm dei mercati emergenti. In tutto questo panorama ovviamente si introduce e eh si inserisce Booking.com eh questa è la mission di Booking.com eh making it easier for everyone to experience the world ovvero cercare di fare in modo che eh il mondo sia accessibile a tutti e mh e in questo senso eh credo che ci siano due notizie molto positive eh il primo la prima è che eh questi sono le state del le state room nights della Toscana del duemilaventidue eh rispetto a quelle che eh sono state le le room nights eh prodotte sulla Toscana nel duemiladiciannove che sostanzialmente è l'ultimo anno eh veramente di riferimento un pochino per per il nostro segmento ehm e eh sicuramente eh siamo riusciti a riprendere eh quota anche proprio in termini di di arrivi di pernottamenti e la seconda eh la seconda notizia positiva è che ehm anche in base a quelli che sono i travel trend che Booking.com pubblica ogni anno e che insomma eh se siete partner di Booking dovresti aver ricevuto eh all'interno dell'extranet ehm oltre il settanta per cento eh dei eh viaggiatori intervistati su un campione di circa venticinque mila persone in trentadue paesi eh sostengono che eh il viaggio nonostante tutto sarà uno dei punti irrinunciabili anche per i prossimi anni e che comunque eh in questo momento nonostante tutte le incertezze che che ci sono eh si sentono più fiduciosi rispetto al duemilaventitré di quanto non si sentissero l'anno scorso rispetto al duemilaventidue e quindi questo ci fa ben sperare anche per eh cercare di eh avere eh il prossimo anno un incremento ulteriore rispetto a quelli che sono anche le country di provenienza che abbiamo avuto quest'anno eh questo nello specifico appunto sulla Toscana ehm chiaramente vedete che una grossa quota parte è ancora italiana ma sicuramente eh sono riapparsi anche mercati che insomma negli ultimi anni eh ovviamente per ovvi motivi eh non abbiamo non abbiamo visto quindi US, Brasile, Canada, Australia e e quindi insomma eh sicuramente la speranza è che il duemilaventitré sia ancora più interessante da questo punto di vista eh rispetto ancora a quest'anno. Bene. Allora una cosa volevo dire è ricordatevi sempre che all'interno della extranet di booking.com avete sempre delle statistiche sulla vostra domanda non so se lo tutti lo sapete però in proprio all'interno dell'extranet di booking se voi andate c'è proprio una sezione domanda e ti dice le ultime ricerche o le prenotazioni e quant'altro degli ultimi novanta giorni genutamente. Sì c'è. È gratuito chiaramente. Sì sì assolutamente fa parte dell'extranet di booking quindi fa parte di tutti quel quei dati che che avete a disposizione eh oltre a quelli ovviamente relativi alla vostra struttura nello specifico eh ci sono poi tutti quelli relativi anche al alla destinazione e al mercato di riferimento quindi il mercato all'interno del quale eh anche voi vi muovete. Oltre a questo c'è anche poi la possibilità di creare un competitive set e con cui appunto capire un pochino come eh la vostra struttura e come anche la strategia della struttura eh sta sta andando. Bene andiamo avanti ora dopo aver parlato di tutti i dati e va bene ora andiamo sullo specifico e la cosa poi che molti sono interessati come sfruttare al meglio le potenzialità delle vostre potenzialità. Cominciamo con Airbnb ora Erika ci dice dei trucchetti. Sì allora mi collego al discorso del degli strumenti a disposizione no che avete sulle piattaforme e come vi dicevo prima eh nell'ultimo periodo abbiamo molto ascoltato i feedback ricevuti sul sul prodotto su come Airbnb che tipo di strumenti utilizzare ma anche i servizi che facilitano l'attività di host e vi permettono poi di eh sfruttare al meglio eh l'utilizzo di una piattaforma. Qui avete un riassunto delle più recenti novità appunto lanciate il sedici novembre pochi giorni fa dove eh vediamo c'è un'estensione della protezione Aircover. Aircover è una protezione eh per danni causati durante il soggiorno. Vedremo poi nello specifico cosa significa l'estensione. È stato un programma già lanciato nel duemilaventuno. È stato rivisto ed ampliato. Abbiamo eh inserito delle regole di base per gli ospiti. Questo per rafforzare l'utilizzo delle regole della casa come uno strumento che l'ospite accetta nel momento della prenotazione per impegnarsi a rispettare l'alloggio e averne cura durante il soggiorno. Un sistema eh di recensioni degli ospiti più dettagliato. Questo è stato un feedback che abbiamo ricevuto tantissimo. Ehm e quindi abbiamo cercato di inserire un livello di informazione aggiuntivo dove potete andare a recensire voi l'ospite andando ad indicare cosa è stato e cosa è andato bene e cosa magari non è andato benissimo in modo tale da aiutare anche poi altri host. Questa Erika è un passaggio fondamentale fino a molte volte si parla di recensioni solo e subire una recensione al massimo rispondere a quella recensione negativa. In questo caso sei tu che puoi recensire colui che hai ospitato. Esatto. Un sistema è importantissimo perché vediamo che è molto utilizzato e vi dirò di più perché la vera novità poi è la protezione dalle recensioni ritorsive che è un'altra novità. Spesso ci viene detto eh l'ospite ha avuto una brutta esperienza e mi ha lasciato una cattiva recensione. In questo caso abbiamo inserito a a criteri aggiuntivi dove si può richiedere la rimozione di una recensione quando ad esempio un ospite che ha soggiornato ha causato un danno al vostro alloggio e poi ha lasciato una recensione negativa. Quindi un sistema che vi permette di richiedere la rimozione della recensione. E poi tra le ultime novità abbiamo le categorie. Le categorie sono state già introdotte l'anno scorso. È un sistema per dare diciamo al a chi viaggia la possibilità di trovare più facilmente l'alloggio. Eh vedremo poi quali sono le novità ma è un modo per voi di andare a mettere in evidenza quelle che sono le caratteristiche particolari dell'alloggio della vostra struttura per essere facilmente poi cercato per chi viaggia. Adesso i comportamenti di ehm diciamo il processo decisionale dei dei viaggiatori sta cambiando molto soprattutto negli ultimi due anni e quindi facilmente si vuole andare a trovare quella soluzione più adatta ad esempio fronte lago fronte mare adatta per bambini con giochi sempre più personalizzabile e qui è un modo dove si può andare all'interno dell'annuncio stesso a metterlo in evidenza. Poi ne parleremo tra poco. Eric Cover come vi annunciavo per per gli host è appunto un sistema di protezione per a causa di danni per danni causati durante il soggiorno. Parliamo di più. Quanto costa per gli per gli host? La buona notizia è che è gratuito. La seconda buona notizia è che come vi anticipavo fino a poco fa copriva fino a un milione di dollari in caso di danni è stata estesa fino a tre milioni e adesso copre anche auto parcheggiate in prossimità, barche ormeggiate e anche oggetti di valore all'interno del dell'appartamento. Quindi è una novità importante no? Fa sentire anche un po' più tranquilli poi nel momento in cui si decide di mettere l'annuncio su Airbnb. Poi tra queste novità la verifica dell'identità degli host, quindi richiedere una verifica dell'identità verrà lanciata sui 35 paesi che andrà a coprire almeno il 90% delle prenotazioni e poi su tutto il resto del mondo. Quindi questo sempre per assicurarci di avere un processo anche che crea quella fiducia poi all'interno della piattaforma. Una tecnologia di controllo delle prenotazioni, questo per evitare casi in cui si possano avere poi delle situazioni spiacevoli, organizzazioni di feste, non inattese o incidenti. Quindi è un'altra novità che è stata introdotta, più infine la procedura semplificata per presentare una richiesta di risarcimento. Prima il tempo di attesa era di 72 ore, quando non si riceveva una risposta dall'ospite è stato ridotto a 24 ore e si può richiedere una richiesta di risarcimento in soli tre passaggi. Prima erano 14, quindi diciamo che questo per noi è stato fondamentale visto che c'è stato ripetuto più volte che era un processo infinito. Quindi speriamo adesso sia più semplice. Passiamo alle categorie. Vi dicevo prima, le categorie aiutano molto per mettere in evidenza gli annunci. Come? All'interno delle categorie si possono ritrovare un po' gli annunci. Al momento il sistema è un sistema di intelligenza artificiale dove Airbnb attraverso delle parole chiave presenti sia all'interno dell'annuncio nel titolo ma anche nei servizi che vengono offerti molto importanti aggiornarli perché così si diciamo si mette in evidenza delle caratteristiche uniche tra l'altro a volte che molti hanno ma non. Molte volte discutiamo che chi ha la piscina non flagga il fatto di avere una piscina quindi se io vado a fare una ricerca e voglio una piscina nella ricerca se tu non l'hai messa non troverò mai. Eh sì poi noi abbiamo una categoria dove si possono trovare tutte le strutture con piscina quindi è fondamentale. La novità qui è abbiamo lanciato altre sei nuove categorie quindi che si aggiungono a quelle già esistenti e dal 2023 all'interno della dell'annuncio quindi su Airbnb potete vedere in quale categoria il vostro annuncio è presente ovviamente può essere più più di una. Adesso passiamo diciamo proprio due funzionalità due suggerimenti cosa potete trovare parliamo di strumenti anche per aiutare un po' a catturare la domanda direttamente su Airbnb quindi sull'extranet. Il primo qui vedete un esempio di un host dove nella direttamente sull'extranet di Airbnb c'è una una pagina approfondimenti è una pagina molto importante perché probabilmente alcuni di voi non l'avranno vista ma eh bisogna un po' capire come poterla utilizzare. Eh in questo caso vediamo qui durata del soggiorno qui c'è un host che ha una durata del soggiorno di tre punto cinque giorni e come vedete nel grafico si può confrontare con annunci simili che è la linea tratteggiata e poi anche nel tempo quindi capire come è variato nel tempo. In questo caso prendiamo ad esempio fine ottobre il duemilaventidue quest'host aveva una media quasi di sette giorni nettamente superiore a quella di annunci simili. Ora un dato così ci serve forse poco no? Dobbiamo andare a capire effettivamente se il lavoro che stiamo facendo è un lavoro giusto stiamo sfruttando al meglio le opportunità o c'è qualcosa in più che possiamo fare. Quindi nel pannello a sinistra come vedete proprio sotto opportunità c'è qualità ma abbiamo occupazione e tariffa c'è il tasso di occupazione. Troverete lo stesso grafico dove andare a vedere effettivamente se il vostro tasso di occupazione in quel periodo era un tasso ragionevolmente alto oppure no perché in quel caso significa che voi state sfruttando al meglio addirittura in questo caso con un soggiorno mediamente più lungo probabilmente eh c'è anche un impatto minore sui costi oppure in caso contrario bisogna capire qual è la qual è la domanda che state perdendo probabilmente la domanda dei soggiorni breve e cosa si può fare quindi utilizzare poi all'interno gli strumenti eh su Airbnb per promuovere. Secondo suggerimento vediamo un po' magari faccio una domandina che sono quella delle domande però eh chi di voi ha utilizzato il soggiorno minimo quindi l'impostazione che permette un soggiorno minimo di x notti vediamo un po' per alzata di mano più o meno quanti notti ok due e quattro va bene possiamo prendere l'esempio di queste quattro quattro notti allora all'interno dei Airbnb sul calendario quello che abbiamo inserito è proprio uno strumento che vi permette di andare a vedere perché cosa capita abbiamo un soggiorno minimo di quattro notti riceviamo delle prenotazioni tra una prenotazione e l'altra abbiamo un buco di tre notti quindi cosa succede queste tre notti sono notti non prenotabili ma saranno anche notti non visibili quindi perdete un'opportunità che poi è quello il vantaggio di essere sulla piattaforma di far vedere effettivamente tutta la disponibilità e andare a ottimizzare in quel caso lì questo soprattutto quando c'è una forte domanda potete intervenire magari verso al ridosso no della della finestra di prenotazione andando a sbloccare quelle notti lì quindi non è in automatico su tutte ma si va nello specifico su quelle notti sono strumenti che trovate su Airbnb ma potete anche trovare su su channel manager che sono collegati con Airbnb infatti la domanda è questa è Airbnb si collega tutti i channel manager solo ad alcuni come come è allora tendenzialmente adesso siamo connessi con tutti ovviamente la personalizzazione dell'interfaccia è un lavoro di collaborazione con il channel manager e quindi tutti passano il parametro della della dello stage verificherei il vantaggio è che direttamente su Airbnb nella pagina partner c'è una pagina che è stata fatta proprio con tanto impegno dove si può fare una ricerca del partner e vedere quali funzionalità sono già presenti quindi lì si può vedere effettivamente cosa si può fare cosa non si può fare poi approfondire no sono Airbnb l'avete visto prima una piattaforma che nei dieci anni è stata stravolta quindi eh le nuove funzionalità adesso con due appuntamenti l'anno lanciamo almeno più di cento novità ogni anno quindi è difficile poi anche star dietro a tutti i nuovi sviluppi ma la domanda è se immagino uno di loro vuole fare un annuncio su Airbnb oggi faccio l'annuncio farà come faccio a farlo visualizzare prima possibile dagli maggior visibilità come cosa posso fare questa è la domanda allora eh questa è una bella domanda eh intanto Airbnb per chi non non la conosce vuole iniziare è gratuita e tutti possono pubblicare l'annuncio su Airbnb eh quando pubblichiamo l'annuncio vedevamo prima adesso c'è una nuova categoria che fa vedere gli annunci pubblicati negli ultimi dieci giorni quindi c'è un vantaggio nell'annuncio nuovo di massima visibilità quello che può succedere è alcune volte che quando si pubblica l'annuncio questo annuncio non ha quella non entra nel meccanismo di visualizzazioni e poi prenotazioni che permettono di rimanere alti con posizionamento nella ricerca sicuramente creare un annuncio fatto bene aiuta perché l'annuncio ci sono dei dettagli vedevamo prima i servizi che vi permettono poi di eh avere un buon posizionamento cosa succede se dopo qualche mese vi rendete conto di non aver ricevuto la prima prenotazione che poi questa è una cosa in realtà che potete fare subito oppure vedere un po' dopo qualche qualche mese capire come va e se vi rendete conto che non state sfruttando perché non avete ancora ricevuto la prenotazione potete attivare una promozione che è una promozione che si attiva per le prime tre prenotazioni c'è un venti per cento valido solo per le prime tre prenotazioni e per massimo novanta giorni dal momento in cui si attiva quindi poi è una promozione che si esaurisce nel momento in cui si ricevono le prime tre prenotazioni o allo scadere dei novanta giorni e può essere utilizzata una volta sola quindi è molto importante sapere quando utilizzarla. Giocarsela bene. Giocarsela bene. Esatto. Grazie mille. Vai. Parliamo dei domani digitali. Facciamo una carrellata diciamo che abbiamo visto un po' la piattaforma abbiamo visto quali sono gli strumenti ma Airbnb quindi la piattaforma non non è solo serve solo per sviluppare degli strumenti e intermediare basta in realtà è anche quello di riuscire a catturare i le tendenze le ultime tendenze e capire se è un'opportunità che si può sfruttare come il caso è quello dei soggiorni lunghi ora non so quanti di voi magari hanno già provato a si sono un po' proiettati anche verso questa direzione ma i soggiorni lunghi sono una delle delle tipologie di soggiorno con più forte crescita su Airbnb passiamo a una crescita del cinquanta per cento rispetto all'anno scorso e rappresentano il venti per cento delle delle prenotazioni globali quindi un dato molto importante all'interno degli soggiorni lunghi che per noi soggiorni lunghi sono soggiorni di un mese quindi dal mese in su abbiamo eh il trend dei nomadi digitali chi sono i nomadi digitali i nomadi siamo noi nel senso siamo noi vi faccio il mio esempio e lavoro in un'azienda dove posso tranquillamente fare la slide successiva perché un po' la racconta e a maggio è annunciato che i dipendenti diventano nomadi digitali la flessibilità quindi per me io vivo a Milano ma posso lavorare da dove voglio e questo è un grande vantaggio perché ovviamente io per dire se sono a maggio aprile eh perché stare a Milano potrei andarmene in Toscana ed è un qualcosa che ho già fatto pianificato un po' eh il mio prossimo anno seguendo queste tappe tra cui la Toscana dove mi fermerò almeno per un mese perché voglio sfruttare al meglio questo vantaggio quindi il nomadi digitale soprattutto Airbnb è una piattaforma prettamente internazionale quindi abbiamo molti viaggiatori che arrivano oltre confine e come abbiamo visto è un trend che negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo si stima che i nomadi digitali cresceranno anno su anno del 39 per cento 40 per cento quindi eh si consoliderà sempre di più e diventerà sempre più importante e aziende quindi come aziende vediamo americane soprattutto hanno iniziato con questo trend e piano piano si tutti quanti un po' si stanno adeguando perché è qualcosa che poi è molto importante anche per chi sceglie il momento di lavorare questa possibilità della flessibilità cosa abbiamo fatto vado veloce abbiamo lanciato un'iniziativa un'iniziativa vivi e lavora ovunque con venti destinazioni in tutto il mondo tra queste venti destinazioni che vedete qui ne abbiamo due in Italia uno con il Friuli Venezia Giulia e l'altro Brindisi provincia di Brindisi abbiamo iniziato con iniziative di sviluppo quindi collaborazione con i territori ogni destinazione ha una propria pagina dedicata all'interno della quale si può scoprire le bellezze del territorio strutture e e quindi altre iniziative che verranno fatte per promuovere le destinazioni soprattutto soprattutto all'estero e e nel frattempo diciamo noi stiamo collaborando col territorio per facilitare il soggiorno dei nomadi digitali quindi con spazi co-working e un accesso più facilitato per godere di questi benefici come prepararsi due informazioni in realtà quattro per nel caso vogliate sfruttare al meglio questo nuovo trend è importante avere una lunghezza minima del soggiorno aggiornata in questo caso di 28 giorni qualora fosse possibile ovviamente lo sconto mensile o prezzo mensile perché il prezzo sappiamo è importante delle volte non possiamo ragionare sul prezzo per notte e moltiplicarlo per un mese ma possiamo utilizzare dei prezzi che sono personalizzati per il mese verificare la velocità del wifi il wifi è uno strumento importantissimo e tra i servizi più ricercati quindi c'è uno strumento in più che vi permette di comunicare all'ospite qual è la velocità in modo da stare tranquillo e sapere già cosa aspettarsi e la postazione di lavoro velocità del wifi verificata si fa tramite app vi collegate direttamente dal dal vostro appartamento dalla vostra struttura dall'app potete accedere allo strumento che vi fa avviare il test di verifica della velocità del wifi salvarlo e poi renderlo visibile sull'annuncio ultima cosa prezzi mensili aggiornati dicevo prima non si può ragionare sulla tariffa giornaliera avete diversi strumenti offrire ovviamente sconti mensili ma vi dirò di più potete andare ad inserire un prezzo mensile personalizzato quindi quando voi soprattutto questo ragionamento che facciamo facciamo nei momenti di bassa stagionalità quando si sa che si si riceve meno domanda e si vuole magari spingere un pochino più sul sul long term oppure quando si hanno strutture solamente per i soggiorni a lungo termine il prezzo mensile personalizzato vi permette di andare a inserire un importo mensile appunto per ogni mese dell'anno quindi avete voi la strategia in mano potete facilmente utilizzarla grazie mille ora grazie mille Tatiana so che dobbiamo fare tutto di fretta se no ci mi picchiano proviamo a fare in tre minuti tu e Alessia dovete fare un record dell'ora proviamo a spiegare in tre minuti vai spieghiamo tutto hotel bez in tre minuti va bene ce la facciamo allora vai come abbiamo detto hotel bez è una soluzione tecnologica per collegare al meglio la domanda e l'offerta ma non è solo tecnologia è l'ottimizzazione e targettizzazione da dal punto di vista sia dei clienti che degli hotel in che senso non è solo mettere lì le tariffe e in qualche modo un cliente lo vede e prenota un albergo ma trovare la soluzione che si adatti al meglio alla strategia dell'albergo stesso e trovi il proprio target come cliente io ho preparato giusto due casi esempio per fare esempi veloci questo è un un esempio di un hotel a Firenze di circa 40 camere che come vedete noi abbiamo un sacco di dati in hotel bez lavorando in tutto il mondo con sessanta quattro mila agenzie e compagnieri abbiamo miriade di dati che possiamo sfruttare a nostro favore e utilizzare per trovare la strategia migliore questo albergo all'inizio come vedete a destra le colonnine rosse era un hotel che risultava non competitivo per cui le vendite erano abbastanza basse con con i nostri contract manager che sono tutti in destinazione qui a Firenze chi chi di voi qui conoscete sicuramente Valentina Mastio e Roberta Ioppolo che entrerà rientrerà a breve è stato fatto una revisione della strategia dell'hotel che comunque si basa solo sulle tariffe dinamiche che aveva solo le tariffe dinamiche refundable e non refundable sono state introdotte altre tipologie di tariffe opaca è una select che è dedicata solo a un numero molto limitato di clienti questo ha portato non solo alla crescita di produzione ma al cambiamento della tipologia delle prenotazioni queste erano le prenotazioni a ottobre generate con un sessantasei per cento di due tre notti di soggiorno e solo venticinque di quattro sei notti aumentato quindi di otto per cento i soggiorni di quattro sei notti la stessa cosa dal punto di vista di anticipo di prenotazioni aumentato di due punti soggiorni con l'anticipo di due sei mesi e di tre punti addirittura le prenotazioni con l'anticipo di sei mesi è stato fondamentale aggiungere delle nuove tariffe che prima non c'erano che erano dedicate a un segmento particolare esatto targettizzato ai clienti e hanno trovato la loro appunto i loro clienti qui è anche il discorso di long haul in generale aumentato sulla sull'hotel un altro esempio brevemente è il l'hotel ovviamente con un numero di camere molto più elevato di oltre centocinquanta camere dove invece è stato introdotto il tarifario fit che non ha solo portato all'aumento di vendite ma ha cambiato ha diversificato la tipologia di tariffe nonostante questo ha mantenuto comunque la maggior parte della produzione con le tariffe dinamiche che sono quelle ovviamente che preferiscono gli alberghi di base ma ha costruito una base con le tariffe fit e questo cosa ha portato ad arrivare ai clienti che non c'erano prima proprio in questo hotel quindi ha portato una fetta di clienti tramite compagnie aeree ha diminuito la fetta di vendita online di agenzie di viaggio online mentre ha guadagnato appunto 6 per cento di compagnie aeree 16 per cento in tour operator e 4 per cento in agenzie di viaggio come raggiungiamo tutti questi risultati sempre tre minuti il discorso è come il discorso è che sulle auto è importante la visibilità quindi il discorso è come faccio ad avere visibilità su hotel beds esatto oltre ovviamente alle tariffe rate mix più adatto alla strategia dell'albergo e alla clientela che si cerca è tutto un discorso di marketing che mette a disposizione hotel beds che può essere targetizzato in base alle necessità che sono star collection programma il posizionamento in priorità sull'api piuttosto che sulle landing pages della dei clienti oppure anche il compass pro e devolt che sono dedicate alle ai preferred partners sia hotel e questo in tutto il marketing ci sono anche sei campagne globali che partono durante l'anno con oltre 250 mila email che vengono mandate per ogni campagna con destinati ai più di un milione e mezzo di bookers individuali quindi agenti che entrano a vedere questa visibilità insomma i numeri sono qui quindi è tutto un discorso di marketing e di trovare il cliente giusto per l'hotel giusto insomma. Questa qui è l'argomento più importante che poi lasciamo da l'estero ci prenderemo qualche minuto in più e la protezione delle tariffe il problema della disparità tariffare che spesso vediamo online. Eh sì. Sì eh non abbiamo mai negato eh che ci fosse una difficoltà nel controllare la distribuzione online ehm perché questo perché più è ampia la distribuzione la rete distributiva più è difficile controllare ogni passaggio che passa eh per cui ripeto non abbiamo mai negato abbiamo trovato abbiamo cercato di trovare le soluzioni nel duemila e diciotto hotelvez ha preso una decisione forte di eh trovare assolutamente la la soluzione più eh più efficace al costo di rinunciare a una fetta grossa di fatturato che proveniva ovviamente da un certo tipo di clienti che all'epoca nel duemila e diciotto erano circa duecentocinquanta milioni quindi si è presa la decisione di rinunciare a quello pur di eh assicurare la crescita dei clienti buoni. Sono stati classificati ogni singolo cliente per modello di business eh sono state create le categorie di distribuzione degli hotel perché come sai benissimo mh ogni hotel è diverso ogni hotel ha la propria strategia e necessità ci sono hotel che l'unica necessità che hanno è riempire l'albergo al costo che sia il costo ci sono hotel che giustamente per strategia per revenue eh hanno bisogno di garantire che online le tariffe sono controllate per garantire l'immagine dell'hotel quindi abbiamo creato diverse classificazioni degli hotel e anche la tecnologia che riesca a combaciare questi due dati in modo da veicolare le vendite in modo più giusto. Oltre a questo eh dal duemila in realtà dal duemilaventi però con il covid era stata sospesa ma nel duemilaventidue siamo ripartiti con la collaborazione con Red Gain che è quello che viene utilizzato anche dalle grandi catene alberghiere eh a cosa serve? Eh serve per monitorare costantemente il mercato online eh è una collaborazione molto onerosa quindi hotel beds mette avanti un po' di soldi per cui eh ci mettiamo avanti mettiamo avanti le mani cerchiamo di trovare le soluzioni eh viene monitorato il mercato per cui un albergo eh che rientra nel nel controllo Red Gain vengono fatti costantemente test booking per trovare quel cliente che eventualmente non sta rispettando le regole che ha dettato hotel beds e quindi il cliente viene punito. Io posso dirvi per esperienza che due nostri alberghi non hanno avuto più problemi di disparità proprio per questo ti chiedo un albergo per evitare questi problemi che deve fare? Basta contattare il proprio contract manager di riferimento e discuterne vedere come trovare la giusta soluzione quali sono i clienti che vuole eh a cui vuole rivolgersi quale sarebbe la soluzione più giusta nel classificare l'hotel da uno standard sensitive absolute o altre soluzioni eh e aggiustare Red Mix appunto per veicolare a quel punto verso i clienti. La faccio grezzo se non volete essere rivenduti da una X agenzia lo dite all'account, l'account può evitare che quell'agenzia online vi rivenda. Ok? E monitorare che sia corretto. Alessia ci prenderemo un po' di spazio ma va bene ma abbiamo tanto mi scuserete perché lì dice che time is up ma noi andiamo avanti. Io cercherò di essere breve come direbbe qualcuno. Eh no eh a parte gli scherzi ehm io ho proprio tre punti eh perché ovviamente booking.com è uno strumento e quindi come tale può essere utilizzato in tantissimi modi. Eh lo conoscete quindi sapete che eh le possibilità sono veramente molteplici e e quindi abbiamo la possibilità di utilizzare più tipologie tariffarie, abbiamo la possibilità di utilizzare diversi prodotti che possano essere il Genius piuttosto che il programma dei dei preferiti, piuttosto che la tariffa mensile come appunto menzionava prima Erika per i i nomadi digitali. Eh abbiamo le deal che invece possono essere promozioni temporanee che gestite voi interamente. Ehm io credo che la prima cosa e la cosa fondamentale eh da fare su booking.com sia quella di avere i piani tariffari di base. Quindi cioè partirei proprio dal dall'ABC che sembra una cosa mh forse banale ma in realtà non lo è perché sostanzialmente prima di arrivare a mille programmi e mille possibilità eh diverse ovviamente l'obiettivo è quello di avere la possibilità di gestire eh le tariffe eh secondo tre principi. Quindi la tariffa flessibile sempre disponibile con la possibilità eh di essere cancellata tendenzialmente la bar cosiddetta. Eh una tariffa in advance booking quindi in prenota prima eh che sia disponibile fino a un massimo di quindici giorni prima eh del del check-in eh che può essere anche questa non rimborsabile. C30 dipende poi dalla disponibilità. Dipende ovviamente dalla strategia assolutamente assolutamente. Può anche essere tre mesi prima. Certo. E e poi la tariffa non rimborsabile che può intersecarsi eventualmente anche con eh l'early booking in modo da non sovrapporsi ma da avere eh in modo da dare anche una continuità e in modo da poter intercettare ogni tipologia di cliente. Quindi il cliente che vuole prenotare e avere la tranquillità visto che appunto veniamo usciamo da due anni eh di di covid e quindi la flessibilità è sempre stata una cosa eh più che apprezzata. A chi invece magari vuole prenotare la sminut e e quindi gli va benissimo prenotare anche una una non rimborsabile. Alessia sa che cioè io sono un fan di una funzionalità della non rimborsabile cioè il fatto che sia sempre prepagata non rimborsabile però che è possibile modificarla una volta quindi spieghiamo. Sì questa è una funzionalità che eh abbiamo inserito con il covid eh quindi durante la pandemia eh perché sicuramente è stato un periodo terribile ma qualche cosa di buono in questo caso l'ha portato ovvero l'anno rimborsabile si chiama not refundable date change eh c'è la possibilità di inserire una non rimborsabile che abbia eh la flessibilità minima ma pur esistente di poter cambiare una volta eh quella prenotazione quindi la data. Si perdono i soldi. No no. Ma esattamente quello l'obiettivo. L'obiettivo è proprio quello di coniugare eh la necessità magari di avere un cash flow anche in anticipo con quella che è invece magari la necessità di del cliente di avere anche quel minimo di flessibilità eh che chiaro che se costerà di più la notte in cui vuole modificare la data costerà un prezzo superiore a quello che è già acquistato dovrà pagare la differenza. Sì assolutamente sì. Questo è il primo punto. Il secondo punto eh anche legandomi proprio a tutti i discorsi che abbiamo fatto eh su sul nomadismo digitale sicuramente è la mobile. Eh la tariffa mobile tra tutti i prodotti di booking.com è sicuramente uno di quelli anche qui più flessibile perché si può eh utilizzare a seconda di quelle che sono anche le necessità della struttura e i periodi eh in cui la struttura lo 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 desidera e ehm ovviamente aiuta ad aumentare quella che è la visibilità tramite il canale che ad oggi è il più utilizzato. Considerate che eh in termini di dati ad oggi ormai più del quaranta per cento del del business arriva da mobile. E nello specifico eh su Firenze eh e sulla Toscana siamo già oltre il cinquanta. Quindi mh da questo punto di vista eh è sicuramente una eh una cosa molto importante. E qui infatti vediamo questi sono i dati di eh delle room nights di Firenze degli ultimi tre anni ovviamente escluso il duemilaventi perché non c'era nulla da mostrare eh però eh sostanzialmente appunto metà di queste prenotazioni vedete le barre in giallo relative al duemilaventidue arrivano già da mobile. Quindi è assolutamente un canale fondamentale su cui essere. Ultimo ma non per importanza le tariffe per paese. Che io uso tantissimo. Le famose geolocalizzate. Geolocalizzate. Esattamente. E questa è una cosa che eh abbiamo ormai da da diversi anni. eh lo abbiamo visto anche prima abbiamo parlato tanto di eh paesi di provenienza di quelle che possono essere le country eh anche di lungo raggio eh che ognuno di noi ognuno di voi vuole intercettare e questa tariffa permette proprio di fare una scontistica ad hoc per quel paese di provenienza e eh appunto capire anche eh qual è il paese di provenienza che magari più ci interessa. Tra l'altro eh all'interno dell'extranet trovate anche tutti i dati eh relativi a quelli che sono i paesi di provenienza eh della vostra struttura che arrivano nella vostra struttura e quindi eh ci sono tanti dati compresa l'ADR che possono essere indicazioni importanti. Queste tariffe che si possono fare anche su waterbed o anche su altre OTA sono molto interessanti sia per per esempio parliamo del mercato americano durante il Thanksgiving c'è un aumento delle prenotazioni del mercato americano quindi fare una una promozione in quel dato periodo in quel dato paese è importante ma anche quando partecipate alle fiere quando le mie strutture alberghiere eh partecipano alle fiere in quel paese specifico attivare della tariffa eh geolocalizzata può dare un vantaggio anche allo quando parli con l'operatore stesso ed è ovviamente sia in visibilità che in produzione. Assolutamente sì e quindi questo permette anche di ottimizzare l'occupazione lungo tutto l'arco dell'anno e e quindi ottimizzare le le performance della struttura. Queste sono le top country di provenienza di quest'anno eh di Firenze. Vediamo che rispetto a quelle della Toscana già gli Stati Uniti eh sono al secondo posto eh e anche mh paesi eh ovviamente poi c'è UK e ci sono tutti i paesi europei ma anche ad esempio Brasile, Australia, Canada eh sono comunque più su nella top 20 e e sicuramente a seconda anche di quello che è la vostra segmentazione eh potrebbero magari essere interessanti eh con diciamo mh paesi per da da targettizzare per il prossimo anno e naturalmente tutto questo dipende poi da quella che è eh la strategia della della struttura. Grazie. Intanto ringrazio non so se avete delle domande perché penso che loro mi picchieranno se fanno delle domande però eh se non avete domande li ringrazio ad Alessia, Erika e Tatiana perché il loro supporto e le le informazioni che vanno dato e grazie di tutto. Se avete le israeli sono tutte disponibili sul BTO. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.